foreign service institute italian familiarization and short term course lesson three at the exchange office dialogue for listening scusi dove l'ufficio cambi lì a destra vicino all'uscita vorrei cambiare dei dollari quanti quant'è il cambio il cambio dollaro lira e di 1 a 1290 vede è scritto su quella tabella va bene cambio 100 dollari 100 dollari sono 129 mila lire preferisce banconote di piccolo taglio mi dia due banconote da 50 e due da 10 eccomi signor borghi possiamo andare dialogue for repetition scusi dove l'ufficio cambi lì a destra vicino all'uscita vorrei cambiare dei dollari quanti quant'è il cambio il cambio dollaro lira e di 1 a 1290 vede è scritto su quella tabella va bene cambio 100 dollari 100 dollari sono 129 mila lire preferisce banconote di piccolo taglio mi dia due banconote da 50 e due da 10 eccomi signor borghi possiamo andare andare bene take it apart vocabulary to at a a a a to be alright andare bene Andare bene. All right. Va bene. Va bene. Bill. Banconota. Banconota. Small bill. Banconota di piccolo taglio. To change, exchange. Cambiare. Cambiare. I'll change. Cambio. Cambio. I would like to change. Vorrei cambiare. Vorrei cambiare. Rate of exchange. Cambio. Cambio. One hundred. Cento. Cento. Right. Destra. Destra. To the right. A destra. A destra. Dollar. Dollar. Dollaro. Some dollars. Dei dollari. Dei dollari. Here I am. Eccomi. Eccomi. Lira Give me Mi dia We may, can Possiamo To prefer Preferire Do you prefer Preferisce How much Quanto How many Quanti What is the rate of exchange Quant'è il cambio That Quello Quello That feminine Quella Quella To write Scrivere It is written Escritto Escritto On Su Board Tabella Tabella Office Ufficio Exchange office Exchange office Ufficio cambi Ufficio cambi One Uno Exit Uscita Uscita To see Vedere 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 Do you see Vede Vede To want Volere Volere I would like Vorrei Vorrei Cardinal numerals Numeri Cardinali Numeri Cardinali Numeri Zero 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 One Uno Una Uno Una Two Due Due Three Tre Tre Four Quattro Quattro Five Cinque Cinque Six Sei Sei Seven Sette Sette Eight Otto Otto Nine Nove Nove Ten Dieci Dieci Eleven Undici Undici Twelve Dodici 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 Thirteen Tredici 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 Fourteen Quattordici 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 Quindici Quindici Sixteen Sedici 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 Seventeen Diciassette Diciassette Eighteen Diciotto 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 Diciannove 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 Venti 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 Twenty-one Ventuno Ventuno Twenty-two Ventidue 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 Twenty-eight Ventotto 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 Thirty Trenta Trenta Forty Quaranta 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 Fifty Cinquanta 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 Sixty Sessanta Sessanta Seventy Settanta 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 Eighty Ottanta 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 Ninety Novanta Novanta One hundred Cento 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 One hundred Cento Uno Cento Uno Cento Cento One hundred And Eighty Cento Ottanta Cento Ottanta Cento 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 Ottanta Cento Cento Ottanta Two hundred Duecento 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 Three hundred Trecento 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 One thousand Mille Mille One thousand Four hundred Mille Quattrocento Mille Quattrocento Two thousand Due Mila Due Mila One hundred Thousand Cento Mila Cento Mila One million Un milione Un milione Two million Due Due milioni Due milioni Additional vocabulary Next to Accanto Accanto Low Basso Basso That is Cioe Cioe You wish He She wishes Desidera Desidera It depends upon Depende da Newsstand Edicola Edicola How much Do you need? Quanto Behind Tipo 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 Currency Valuta 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 Getting the feel of it Pronunciation practice Scusi Dove L'ufficio Cambi Scusi Dove L'ufficio Cambi Vorrei Cambiare Dei Dollari Vorrei Cambiare Dei Dollari Quant'è il Cambio? Quant'è il Cambio? Va bene Cambio Cento Dollari Va bene Cambio Cento Dollari Mi dia due Banconote da 50 E due Da Dieci Mi dia due Banconote da 50 E due Da Dieci Eccomi Signor Borghi Possiamo Andare Eccomi Signor Borghi Possiamo Andare Working with the Language Model One L'ufficio Cambi? Sì Scusi Dov'è L'ufficio Cambi? O Gli Uffici Cambi? Sì Scusi Dove Sono Gli Uffici Cambi? La Valigia? Sì Scusi Dov'è La Valigia? L'ambasciata? Sì Scusi Dov'è L'ambasciata? Lo Scontrino? Sì Scusi Dov'è Lo scontrino? Lo scontrino? Dogana? Sì Scusi Dov'è La Dogana? Le Valigie? Sì Scusi Dove Sono Le Valigie? Gli scontrini? Gli scontrini? Sì Scusi Dove sono gli scontrini? I carrelli? Sì Scusi Dove sono i carrelli? I signori? Sì Sì Scusi Dove sono le signore? Model 2 Preferisce Banconote di piccolo taglio? Sì Mi dia Banconote di piccolo taglio Preferisce 21 dollari? Sì Mi dia 21 dollari Preferisce 100 dollari? Sì Mi dia 100 dollari Preferisce 31 dollari? Sì Mi dia 31 dollari Preferisce 1000 dollari? Sì Mi dia 1000 dollari? Preferisce 2000 dollari? Sì Mi dia 2000 dollari? Preferisce 28 dollari? Sì Mi dia 28 dollari? Model 3 Sì Mi dia 1100 dollari? Model 3 Cambia 200 dollari? Sì Cambio 200 dollari Cambio 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 100 dollari? 1000 dollari? Cambio 1000 dollari? Sí cambio 3000 dollari? Sì, cambio 100 dollari. Cambia 10 dollari? Sì, cambio 10 dollari. Cambia 1.100 dollari? Sì, cambio 1.100 dollari. Cambia banconote di piccolo taglio? Sì, cambio banconote di piccolo taglio. Dov'è la dogana? Ecco la dogana. Dov'è la valigia? Ecco la valigia. Dov'è l'ambasciata? Ecco l'ambasciata. Dov'è l'uscita? Ecco l'uscita. Dov'è la signora? Ecco la signora. Dov'è il signore? Ecco il signore. Dov'è lo scontrino? Ecco lo scontrino. Dov'è il carrello? Ecco il carrello. Dov'è il passaporto? Ecco il passaporto. Dov'è l'ufficio cambi? Ecco l'ufficio cambi. Model 5. Dov'è la valigia? Ecco la o... Dov'è il carrello? Eccolo. Dov'è la valigia? Eccola. Dov'è l'ambasciata? Eccola. Dov'è l'uscita? Eccola. Dov'è la signora? Eccola. Dov'è il signore? Eccolo. Dov'è lo scontrino? Eccolo. Dov'è il carrello? Eccolo. Dov'è il passaporto? Eccolo. Dov'è l'ufficio cambi? Eccolo. Model 6. La valigia? No, le valigie. L'ambasciata? No, le ambasciate. L'uscita? No, le uscite. La valigia? No, le valigie. La signora? No, le signore. La dogana? No, le dogane. La banconota? No, le banconote. Model 7. Il signore? No, i signori. Lo scontrino? No, gli scontrini. No, i passaporti. No, i passaporti. L'ufficio cambi? No, gli uffici cambi. Il carrello? No, i carrelli. Il dollaro? No, i dollari. Model 8. La signora? No, le signore. Il passaporto? No, i passaporti. L'ambasciata? No, le ambasciate. L'ufficio cambi? No, gli uffici cambi. Lo scontrino? No, gli scontrini. L'uscita? No, le uscite. Il carrello? No, i carrelli. Il signore? Il signore? No, i signori. La dogana? No, le dogane. La valigia? No, le valigie. Il dollaro? No, i dollari. La signora? No, le signore. La banconota? No, le banconote. Il consolato? No, i consolati. This is the end of Tape 1 of Lesson 3. Foreign Service Institute Italian Familiarization and Short-Term Course. Lesson 3, Tape 2 at the Exchange Office. Model 9. Ha una valigia? No, ho due valigie. Vede una signora? No, vedo due signore. Vede una tabella? No, vedo due tabelle. Vede un'uscita? No, vedo due uscite. Ambasciate. No, vedo due ambasciate. No, vedo due ambasciate. No, vedo due banconote da dieci. Model 10. Da un dollaro? No, do due dollari. Vede un consolato? No, vedo due consolati. Ha un carrello? No, ho due carrelli. Vede un ufficio cambi? No, vedo due uffici cambi. Vede un signore? No, vedo due signori. Vede un americano? No, vedo due americani. Ritiro un passaporto? No, ritiro due passaporti. Ha un indirizzo? No, ho due indirizzi. Rimane un giorno? No, rimango due giorni. Da una lira? No, do due lire. Rimane un giorno? No, rimango due giorni. Vede una signora? No, vedo due signore. ha un carrello? No, ho due carrelli. Vede un'uscita? No, vedo due uscite. Vede un americano? No, vedo due americani. Vede un'ambasciata? No, vedo due ambasciate. Rimane un mese? No, rimango due mesi. Vede un albergo? No, vedo due alberghi. Ritiro un passaporto? No, ritiro due passaporti. Vede un signore? No, vedo due signori. Da una banconota da dieci? No, do due banconote da dieci. Ha una lira? No, ho due lire. Ha un indirizzo? No, ho due indirizzi. Vede un ufficio cambi? No, vedo due uffici cambi. Model 12 Model 12 625 253 81 28 31 38 1623 676 121 1101 17 999 5688 7 2000 1763 414 23 400 877 7 listening comprehension il signor franchi desidera cambiare dei dollari va in banca il cambio di oggi è di 1 a 1290 per valuta e di 1 a 1290 per assegni viaggiatori il signor franchi cambia valuta e preferisce banconote di piccolo taglio this is the end of lesson 3 3 3 4 5 6